Ciao a tutti i metallari, benvenuti su HMM Channel. Allora, voglio parlarvi di un album e faccio una premessa. Avevo due album metal, classic metal, power metal, di cui volevo parlarvi. Sicuramente avrei acchiappato giusto quei tre clic in più parlandovi dell'ultimo dei Riot V. Quindi, non è detto che non ve lo porti, anche perché diciamo che è in lista di attesa, però oggi ho ascoltato per bene e ho recensito sul sito, quindi andrò a sbirciare, come dico sempre, dal mio stesso scritto, ho recensito l'ultimo album degli americani Attacker. Allora, cosa dire degli Attacker, ragazzi? Gli Attacker sono uno di quei gruppi che io seguo da vent'anni almeno, se non di più. Ora, gli anni passano e ricordarsi di tutti quelli che passano diventa compito arduo. Gli Attacker hanno una manciata di album alle spalle, esistono più o meno dalla metà degli anni Ottanta. Se non sbaglio, sono al settimo album, però potrei anche sbagliarmi. Ora non ho qua molte cose davanti per scopiazzare, ho giusto la mia recensione. Questa volta tornano con The God Particle. Scusate, mi sono sbagliato. Tornano con un album che si intitola The God Particle per Cruz del Sur Music 2024, un album che sarà uscito un mese fa, due mesi fa. Gli Attacker, secondo me, sono stati una formazione sempre molto molto sottovalutata. Già quando si parla di US Metal, US Power Metal, si entra in un territorio di confine che è un po' come parlare di metalcore. Anche se parlare di metalcore, al giorno d'oggi, tanti pensano che il metalcore sia quello di band come i Bullet for My Valentine, piuttosto che i Trivium, piuttosto che altre band che io non sopporto affatto. pur sopportando tutti i musicisti e rispettandoli tutti, quello che a me non piace, e qui apro una piccola parentesi, è il termine metalcore applicato a queste band, che secondo me non fanno metalcore, fanno pop metal. E lo dico con rispetto perché fare pop metal, fare delle belle canzoni orecchiabili su un tessuto di musica dura, anche se a me fa cagare, non è cosa da tutti. Per cui massimo rispetto per gente come Trivium, Bullet for My Valentine, piuttosto che Caliban, e poi chi c'è? Non lo so, di nomi ce ne tanti. Però il termine metalcore, ai miei tempi, negli anni 80-90, si applicava ai Sui Sadal Tendensis, ai DRI, ai Biohazard. Quello era il metalcore, o l'hardcore metal, o il trashcore, comunque. A seconda di qual era il genere predominante, si dava questa etichetta. Quindi vedermi adesso applicare il termine metalcore a delle realtà che propongono la frangia più, diciamo, commerciale del metal, e vedendo cos'era prima il metalcore che era invece applicata a quelle band che forse forse erano messe lì in una delle posizioni più scomode del metal, mi sembra un controsenso, perché l'hardcore metal di prima, il metalcore, era un genere per pochi e chi l'ascoltava era gente cazzuta. Invece questi qua si sono appropriati di questo termine, o qualcuno gli ha appropriato questo termine, perché a volte non è nemmeno colpa delle band. Parlando degli attacker, ripeto, si deve tornare un po' indietro e riportare a galla il termine US metal o US power metal. Loro propongono lo US power metal. Cos'è lo US power metal? Chi propone US power metal? Metal Church, Attacker, Hellstar, potremmo citare anche i primi Jake Penzer, per certi versi anche qualcosa dei Lads Rocket, e poi ci sono i Vicious Rumors e altre formazioni. Fondamentalmente cos'è lo US metal o lo US power metal? Faccio piccola premessa, ora dirò alcuni generi, compresi in questo termine. Chiaramente ogni band poi ha le varie percentuali, i vari ingredienti di ciascun genere. Nello US power metal noi possiamo trovare, teoricamente, il trash metal, il classic metal, lo speed metal e il power metal. Anche volendo, certo power metal di matrice teutonica. Però sostanzialmente si differenzia molto dal power metal di matrice tedesca, perché lo US metal o US power metal ingloba il trash metal, lo speed, il classic metal. E poi la caratteristica principale, che ha rispetto a, non a tutto, il power metal europeo e in special modo tedesco, la caratteristica principale dello US power metal, quindi quello americano, è che solitamente è un genere che è oscuro. Basti solo pensare ai primi metal church, al primo grandissimo album di metal church, ma mettiamoci anche il secondo, ma mettiamoci anche il terzo capolavoro, Blessing in Disguise, se noi pensiamo a questi album, pensiamo anche agli Hellstar di Nosferatu, immaginiamo degli album molto scuri, no? Molto dark, infatti il secondo dei metal church si chiamava The Dark. E rispetto al power metal tedesco, e anche qui faccio una piccola parentesi, non i primi Halloween, che erano oscuri perché partivano da una base speed, imbastardita, quasi trash, però l'evolversi del power metal, diciamo, europeo e tedesco, se noi pensiamo ad esempio a formazioni tipo i Freedom Call, e anche all'evoluzione che hanno avuto, ad esempio, gli Halloween stessi o i Gamma Ray, vediamo che c'è un pochino di allegria rispetto al power metal americano. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire per inquadrare questo The God Particle. The God Particle è un album cattivo. In questo album degli Attacker voi ascolterete un album cattivo, che avrà lo speed metal, il trash metal, l'heavy metal più cazzuto di band come Accept piuttosto che Judas Priest, e quindi se voi mescolate lo speed metal, il metal puro, il trash metal, e un pizzico di power, avete questo The God Particle. In sostanza, io nella recensione l'ho definito, lascerò poi il link qua, così andrete a spulciare quelli che sono stati i brani migliori, peggiori per me, qua io faccio sempre un discorso. Dicevo, quello che io notavo di questo album è che è della sua line-up, e che il membro più longevo, quello che c'è praticamente dall'inizio, è Mike Sabatini, il batterista. Dopodiché, vediamo che la formazione si è assestata a partire dagli anni 2000 in poi, però adesso è da una quindicina di anni circa, che più o meno la band è abbastanza stabile. Questo album comunque arriva a parecchi anni di distanza dal suo predecessore, mi pare 8 anni, 7-8 anni, e ci presenta una band, secondo me, in forma. se non fosse che, come ho sottolineato anche nella recensione scritta, la voce, ovvero Bobby Lucas, che è colui che si è occupato appunto delle voci, potrebbe essere, secondo me, un elemento che potrebbe dividere i fan ipotetici di un album del genere, perché stiamo parlando di una voce alla Belanger degli Exciter, piuttosto che... non so, stiamo parlando di una voce anche tipo i primi album dei Metal Church di David Wayne, però David Wayne, secondo me, aveva una maggiore varietà di range vocali, David Wayne, secondo me, è uno dei migliori cantanti che abbiamo avuto del heavy metal tutto, e mi viene da ridere anche quando non vengono ricordati cantanti o musicisti che hanno suonato su uno, due, tre album, ma che sono stati grandiosi, come lo stato, ad esempio, Paul Viano degli Iron Maiden, eh, ma sai, ha registrato solo due album, cosa vuoi che sia? Beh, ma sti cazzi, ragazzi, se vi nomino Metal Church e The Dark con David Wayne, voglio vedere qualcuno che mi viene a dire che la prestazione vocale in quei due dischi non è grandiosa, eh, ma sai, poi ne è arrivato un altro, il cantante, erano solo i primi due, sai, Killer, Siron Maiden, erano solo due album, oh, svegliati, ma che cazzo dici? Vabbè, dai, ragazzi, a parte queste minchiate, la voce qui è sempre su tonalità alte, è difficile che cambi range vocale, e questo potrebbe essere un elemento che a qualcuno dà fastidio. A me, se devo dire la verità, in alcuni punti dell'album ha dato fastidio, ma non tanto per la tonalità alta, perché a me piacciono gli Exciter con Belanger, ehm, mi piacciono anche i primi, ehm, Violent Self-Force, piuttosto che Heavy Metal Maniac, che è poi il nome della nostra zin, quindi a me piacciono le voci, le voci acute, però, ehm, qui è veramente acuta, e poi, ehm, è un fatto di registrazione, di volumi. L'ho trovata un pochino alta di volume rispetto agli strumenti, e quindi spicca un po' troppo. Questa è la cosa che potrei imputare di male a questo cantante, che però sul volume non ha colpa, a meno che non abbia preso, come fanno Lars Ulrich, eh, Jane Setfield, il produttore di turno, gli abbiano detto, no, registrami di merda la voce, perché, eh, oppure come ha fatto Ulrich col rullante di St. Anger, no, no, mettigli questo suono di merda, perché se no ti licenziamo, cioè, a meno che non abbia fatto così, ma non credo, eh, la voce è decisamente alta di volume, e quindi copre un pochino un operato di chitarre pazzesco, Mike Benetatos, piuttosto che John o Jon Hasselbrink, sono due chitarristi, ragazzi, che per tutto il disco danno lezioni su come cazzo si debba suonare un album di heavy metal, o di trash metal, o di speed metal, veramente sono una fucina di riff inesauribile, cioè, le cartucce non le finiscono mai, è come trovarsi di fronte al film Commando, dove tu ti chiedi, ma tutte queste cartucce, dove cazzo le ha prese? E poi il batterista, Mike Sabatini, cioè, comunque, un ottimo batterista, ci calza a pennello, quindi questo album, se voi vi piacciono i primi Metal Church, gli Hellstar, anche gli Hellstar, per dire quelli di, degli album compresi tra il 2009 e il 2010, per esempio, mi vengono i titi come, ah, per esempio, l'album, se non sbaglio, era datato a 2010, Glory of Chaos, secondo me, capolavoro assoluto degli Hellstar, ma anche il successivo, si intitolava This Wicked Nest, qualcosa del genere, o The Wicked Nest, ma quei due dischi sono pazzeschi, siamo ai limiti dello speed trash metal, ecco, se vi piace quello stile, condito un po' da Metal Church, questo disco fa per voi, la voce lista semplicemente a chiunque possa ascoltare questo album e, logicamente, ognuno ha i suoi gusti, quindi, se a qualcuno piace la voce presente e che fa acuti dall'inizio alla fine, Bobby Lucas è un gran cantante, se a qualcuno dà fastidio la voce che sovrasta un po' gli strumenti, quindi questo potrebbe essere un problema. Comunque, ragazzi, non vi preoccupate perché già all'inizio la band vi rada al suolo, perché la prima Knights of Terror è una canzone che, letteralmente, dico sempre questo termine, vi rompe il culo e poi vi potrete comprare anche la, come si chiama, la pomata lì, il proctoling, piuttosto che la preparazione H per lenirvi il rossore, ma credo che dopo un pezzo così il rossore sarà molto difficile a passare, ci andrà tempo. Poi, dopo, subito dopo, qui cominciano già subito le influenze alla Metal Church, quindi un po' oscure, Curse of Creation, che pronuncia di merda, Curse of Creation, secondo me, è una canzone che rivela l'amore per Elstar, primi Elstar e Metal Church, ma subito dopo c'è un'altra mazzata come Stigmatized, che anche questa vi raderà al suolo. Per arrivare poi, non so, volete che nomine altri episodi, copiando dalla mia recensione? Ad esempio ci sono Kingdom of Iron, oppure The Mighty Have Fallen, oppure World in Flame, sono altri ottimi pezzi, però in questo caso vediamo che flirtano maggiormente col Metal Classic, con il Metal Classico e mostrano quindi inevitabilmente l'attaccamento a band come Maiden o Judas Priest, quindi ragazzi, un po' il quadro ve l'ho fatto, insomma, se amate il Metal, lo Speed Metal e il Trash Metal, approcciatevi a questo album, magari la prossima volta vi porto i Riot V. con questo è tutto, grazie ancora per l'attenzione che mi dimostrate, scusate per gli strafalcioni, ma ho deciso di impostare i video così, io parlo ad amici, vi reputo degli amici, e spero che anche io possa diventarlo per voi, che io possa diventare familiare con questa faccia di merda che ho, sempre con le occhiaie, sempre sbattuto da 10.000 peripezie che passo durante la giornata e che ho passato durante la mia vita, detto questo, vi saluto e vi ringrazio ancora, al prossimo video, ciao ragazzi, e sempre corna su, mi raccomando, sempre sempre su, ciao!